Che peso ha avuto il ruolo degli amministratori pubblici in questo 2024 e come si pone davanti alle sfide più impegnative del paese? Una fotografia abbastanza a fuoco arriva dal sondaggio annuale Governance Poll dell'Istituto Noto pubblicato oggi sul Sole 24 Ore. I più graditi tra governatori e sindaci sembrano i primi. Sulla corsa a tre per le regioni il primo posto è del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriglia con il 68% dei consensi. Che quest'anno supera l'omologo Stefano Bonaccini, arrivato primo l'anno scorso e che da poco ha lasciato la guida dell'Emilia Romagna dopo l'elezione europarlamentare. Il terzo posto è di Luca Zaia che invece aveva primeggiato per molti anni alla guida del Veneto e l'anno scorso era arrivato secondo. In fondo alla classifica il marchigiano Francesco Acquaroli superato di poco dal governatore pugliese Michele Emidiano. In dieci casi su tre, dice il sondaggio, i governatori sono apprezzati da oltre il 50% dei cittadini. Indice di gradimento legato all'impegno sul territorio che prescinde da quello profuso per le grandi sfide nazionali. Prendiamo l'autonomia ad esempio, uno dei temi che più divide le regioni insieme a quello della sanità e dell'istruzione. Pedriga è autonomista convinto, Zaia Idem Bonaccini invece è molto critico. La settimana scorsa l'Emilia Romagna ha approvato una richiesta di referendum abrogativo della legge Calderoli. Non mettete un euro sui livelli essenziali delle prestazioni, nessuna garanzia di guida territoriale va cancellata, aveva tuonato il governatore. Sul fronte dei primi cittadini, sul podio ci sono invece il sindaco di Parma Michele Guerra, seguito da quello di Napoli Gaetano Manfredi e da quello di Ravenna Michele De Pascale. Il sindaco di Milano Giuseppe Sale invece è al diciannovesimo posto, quello di Roma Roberto Gualtieri penultimo. In questo caso, più che in quello delle regioni spiega l'istituto noto, l'appartenenza politica passa nettamente in secondo piano e il gradimento appare legato solo alla persona. Grazie a tutti.